Il 23 febbraio 1958, presenti tutte le massime autorità dello Stato e del governo italiano, veniva deposta con austera solenne cerimonia nel sacrario dell'altare della patria in Roma, la bandiera decorata di medaglia d'oro del Corpo Volontari della Libertà, con la seguente motivazione. Nell'ora tragica della patria, quasi inermi, ma forti per sovrumana volontà, tutto sacrificando un ideale supremo di giustizia, i volontari della libertà affrontarono la lotta a oltranza contro la tirannide che ancora una volta opprimeva la nostra terra. In una superba sfida al secolare nemico e ai traditori fascisti, dall'esempio dei martiri e degli eroi del passato, trassero incitamento per vincere o morire, innalzando nella lotta la bandiera invitta del risorgimento. Appesi alle forche o sotto il piombo del barbaro nemico, morirono intrepidi, rinnovando il sacrificio dei Manara, dei Mameli, dei Morosini, dei Pisacane, senza speranza di premio per sé, ma con certezza di bene per la patria. Nuovo onore nazionale, i volontari della libertà, sono nella storia d'Italia, monito alle generazioni future. Guerra di liberazione 1943-44-45 Vittoria, Vittoria, Vittoria celeste, dell'ermo di Scipio, che si impalmateca, dove la vittoria, che borga la chioma, che schiava di Roma, di Dio la creò. Viglianciaco morte, si apronti alla morte, si apronti alla morte, Vittoria che ha morto. Viglianciaco morte, si apronti alla morte, ciambronti alla morte, l'Italia chiamò.